Il tema di questo, il focus di questo sinodo dei giovani, per i giovani, con i giovani, la Chiesa in questo momento sta cercando di filtrare le formule molto giuridiche e paludate della tradizione e dire il sinodo dei vescovi, però quando si occupano della Chiesa e dei vescovi e anche di tutti gli altri. Quindi in questi anni si è trovato il modo per rendere protagonisti anche coloro dei quali si parlava in modo che non fossero semplicemente degli interlocutori assenti, così avviene a maggior ragione a proposito del sinodo dei giovani. Dunque parliamo con loro della faccenda, quale faccenda? La faccenda della condizione giovanile. E la prima idea che ci deve venire in mente, che interessa secondo me anche che i ragazzi percepiscano e che condividano con noi, è questa. Appunto parliamo della condizione giovanile. Guardate che questa cosa della condizione giovanile, nella nostra epoca di cambiamento, anzi già cambiata, dice il Papa, ormai è cambiata e se qualcuno non se ne è accorto si aggiorni, in questa epoca cambiata, condizione giovanile, non è una parola innocua, una parola così, di forma, ma è una parola pesante, è diventata una parola pesante, non è semplicemente il fatto che sempre ci sono stati e sempre ci saranno dei figli, dei ragazzi, bambini che diventano ragazzi, diventano grandi e poi devono scegliere la loro vita. No, una delle caratteristiche di questa epoca cambiata è che questa epoca si è inventata la condizione giovanile come se fosse una specie, una specie umana, c'è la specie degli adulti e poi c'è la specie dei giovani, allora c'è un mondo giovanile, una specie giovanile, dei bisogni giovanili, dei desideri giovanili, possiamo anche farcelo andare bene, ma è stata rincarata la dose e si è aggiunto, che sono diversi e in certo modo separati da quello del mondo degli adulti, dei bisogni degli adulti, dei sogni degli adulti, dei desideri degli adulti. Ragazzi, questi due mondi sono stati costruiti, si direbbe, per non incontrarsi, perché se sono così paralleli, se sono così autosufficienti, se hanno dei bisogni, dei desideri, degli interessi, delle cose che sono totalmente specifici, cioè riguardano o gli uni o gli altri, sono diversi tra di loro, hanno tutt'altra logica, allora vuol dire che sono due mondi, non ce n'è più uno solo. E questi qui quando si incontrano? Voi lo capite infatti, quando si incontrano? Si incontrano in due modi, sono costretti a incontrarsi in due modi. Il primo modo è questo, i ragazzi cercano di difendere il loro mondo dall'invadenza degli adulti, evidentemente, perché? Perché sanno che è un mondo più fragile, perché è arrivato dopo, perché gli adulti sono i loro genitori, perché gli adulti sono quelli che comandano, quelli che tengono le redini, quelli che hanno in mano la borsa alla fine, e quindi in certo modo devono difendersi, però accumulano anche un po' di frustrazione, perché se si difendono troppo non possono più appoggiarsi e appoggiarsi hanno bisogno, per tanti motivi, non soltanto economici, capito? Allora è un mondo un po' a sé, è costretto a difendere la propria autonomia, per così dire, e questa cultura, anche la cultura della pubblicità, la cultura del mondo che ci circonda, un po' la carezza questa idea, la esalta e in questo modo rende più forte la frustrazione, tutti gli dicono, il mondo dei giovani, i giovani portatori di valori, i giovani hanno una loro specificità, dobbiamo fare qualcosa per il mondo dei giovani, i giovani hanno diritto ad abitare il loro mondo, sì però, siccome questo mondo dipende da quell'altro, alla fine questa enfasi portata sul mondo giovanile ai ragazzi stessi, secondo me gli comunica la sensazione anche di essere da solo e quando uno ha la sensazione di essere da solo, fa di tutto, per difendersi, per stare in vita, per cercare di resistere, viene per così dire programmato per fare da solo, ma poi nella realtà si sa che non può farlo e anzi, quando tenta di farlo magari c'è addirittura la reazione, dice no, bisogna fermare queste cose perché se no il mondo dei giovani ci sfugge di mano. L'altro mondo invece come reagisce a questa separazione, per così dire, che poi finisce per attraversare le famiglie, quindi non è una separazione così innocua, non riguarda solo la società in generale, riguarda proprio la vita quotidiana. Allora cosa succede? Anche questo è una cosa a suo modo tenera, come la prima, la difesa dei giovani del loro mondo a suo modo è tenera, fa anche un po' di tenerezza, perché come pura difesa non porta da nessuna parte e nello stesso tempo però si capisce, se ti dicono tu sei un mondo a parte e devi vivere dei tuoi valori, della tua logica, eccetera, devi vivere di quello, ma poi ti accorgi che non puoi farlo perché hai bisogno dell'altro mondo, ecco la difesa diventa anche un po' patetica, diventa una specie di fuga, ecco in un mondo proprio che però alla fine non morde più sulla realtà, perché per mordere sulla realtà hai bisogno dell'altra metà del mondo, quella degli adulti, quelli che tengono in mano la cosa. A sua volta come risponde a questa divisione? Guardate che è una divisione che avrà un secolo sì e no, una divisione inventata dall'economia, poi ripresa dalla sociologia, eccetera, l'idea dell'emancipazione, la persona e l'idea di avere un mercato raddoppiato, perché se tu è un mercato non per tutti in generale, ma uno per gli adulti, uno per i giovani, insomma è chiaro che guadagni il doppio. Allora, i genitori cosa fanno? Cercano di diventare più giovani che possono e anche questo ti fa tenerezza, perché in questi decenni è stata una cosa quasi plateale, i giovani cercano di tenersi su, un po' perché la pubblicità gli dice finché sei giovane, sei gagliardo, vali qualcosa, se no dopo sei uno che, sei un peso, sei uno che vale poco, sei uno che ha perso la partita, allora questi sono gagliardi, si vestono come i ragazzi, vogliono essere amici dei ragazzi. Io lo valuto anche positivamente questo aspetto, che dice voglio essere amico dei miei figli, voglio essere all'altezza dei ragazzi, non voglio far parte di un mondo distante, sentito come lontano e forse anche come ostile o puramente oppressivo, voglio entrare in contatto e c'è questo fenomeno del giovanilismo degli adulti, che lo si capisce perché nel profondo è amore per i figli, è amore per la generazione, ma nella realtà diventa anche un po' patetico, l'idea di imitare i ragazzi, di far parte del mondo dei ragazzi che non si rende conto che i ragazzi in realtà hanno bisogno anche, anche se magari non lo confessano volentieri, hanno bisogno che invece qualcuno che è avanti nella strada, nel solco dell'esperienza della vita, abbia accumulato abbastanza autorevolezza per farti da sponna, per dire questo è giusto e questo non lo è. La parola data si onora a qualunque sacrificio e non semplicemente oggi la do e domani la ritiro, i padri e le madri ci sono per questo e curare una creatura anche quando è malato e imparare che è sempre la tua creatura e anche se adesso siccome è malato è un po' fastidioso, non è che lo puoi scaricare, questa è una cosa che i ragazzi hanno bisogno di sentirsi comunicare e comunicare in modo non fiscale, formale, autoritario, ma in base l'esperienza, il genitore che cura la nonna, il genitore che cura il bambino anche se è molto malato e non lo scarica solo per questo, percepire questo dà un orientamento su ciò che vale nella vita, se invece noi adulti ci limitiamo a imitare la spensieratezza dei ragazzi, ci invitiamo a giocare con i ragazzi e ad essere giovani fino a quando, anche quando abbiamo già i capelli bianchi, qualche cosa si storta, ecco inquadrato in termini di epoca secondo me il primo tema che credo la Chiesa dovrà affrontare, perché ormai questa separazione dei due mondi è andata molto lontano, accumulando frustrazione da parte di entrambi e nello stesso tempo il bisogno di rientrare in rapporto in modo giusto è un'urgenza ormai elementare, un'urgenza che ormai attraversa la condizione familiare normale, non è più un'eccezione soltanto di quelli che stanno bene, che hanno delle possibilità, che hanno studiato, allora si creano delle dialettiche, dei confronti tra il mondo e gli adulti, è una cosa elementare e qual è il modo giusto? Ecco il tema che sta nel fuoco, qual è il modo giusto per ristabilire un rapporto tra questi due mondi, metterli sul loro asse e fare in modo che la condizione giovanile venga realmente percepita come una iniziazione alla vera condizione umana che conta, quella che fa la storia, che è la condizione dell'adulto che è in grado di prendere la parola nella comunità perché se ne assume le responsabilità e quindi non pensa soltanto a godersi la vita perché non è più un ragazzo, quindi questo è l'asse e dare dignità a questa cosa, restituire a PIL al desiderio di diventare adulto e quindi in possesso del diritto guadagnato, guadagnato col lavoro, guadagnato con la responsabilità della famiglia, guadagnato con le cose che si sono imparate, guadagnato con la maturità che si è acquistata, il diritto di prendere la parola nella comunità ed essere ascoltato, di essere ascoltato non soltanto dai ragazzi ma da tutti. Come si crea questo asse senza mortificare né la condizione giovanile che naturalmente da che mondo è mondo ha bisogno di fare i suoi passaggi, ha bisogno di fare anche i suoi esperimenti, ha bisogno di trovare la propria strada, non può semplicemente essere inquadrata e preconfezionata e come fare in modo che gli adulti si assumano questa responsabilità di rappresentare il punto di traino per fare posto alla nuova generazione invece che chiudersi su se stessi nei confronti del mondo dei giovani naturalmente perché si sentono per così dire quasi minacciati dalla loro esuberanza, dalla loro voglia di sperimentare cose nuove oppure senza adottare quell'atteggiamento patetico che vuole essere compagno, amico, socio dei propri figli della generazione giovanile salvo poi tenere in mano saldamente il pallino delle leve dell'economia, della politica, del potere e delle cose che contano, capisci com'è? Quindi bisogna rimetterli in contatto e in asse senza mortificarli, senza mortificare appunto i contenuti di questo processo ma ristabilendo ecco la vera cosa, ristabilendo l'unità della condizione umana, l'unità della condizione umana non è orizzontale, due mondi che devono in qualche modo fronteggiarsi e difendersi l'uno dall'altro, ma l'unità della condizione umana è lineare, è quella della storia, il diritto di essere iniziati alla vita, di fare tutto quello che è necessario per essere iniziati alla vita in modo non oppressivo, naturalmente non dispotico, è vero, e il diritto di arrivare alla maturità del modo di abitare la vita che comporta il diritto di prendere la parola nella comunità, il diritto di contare nella comunità e il diritto di rappresentare appunto per i figli una sponda per la generazione che incomincia di nuovo, una sponda capace di comprendere ciò che di nuovo ogni generazione porta con sé, quindi di non mortificarlo, ma anche di offrirgli per così dire gli elementi, le condizioni e le risorse perché arrivi a valere, perché se rimane soltanto della condizione giovanile, continua a rimanere, non vale, non riesce mai a valere, capito? Allora di qui una seconda riflessione che viene a me su questo punto, se prendiamo questa idea, ricomporre l'unità della vita umana, ristabilire appunto un rapporto affettuoso, lineare, anche dialettico, ma positivo fra le generazioni, che non debbano per così dire né difendersi a vicenda né scimmiotarsi a vicenda, quindi rompere con questa etichetta del mondo, c'è un mondo giovanile e c'è un mondo degli adulti, romperla, è diventata una trappola, non è più un riconoscimento della condizione giovanile, è una trappola, una trappola che tiene separata l'umanità in due metà, in modo da vendergli le cose due volte e nello stesso tempo naturalmente lucrare da questa divisione una certa immobilità del rapporto tra le generazioni e del rinnovamento della storia, perché finché il mondo giovanile rimanda il mondo giovanile con la sua voglia di fare, di inventare, di creare, non sarà mai pericoloso, ogni tanto dovremmo dargli una regolata, ma non sarà mai pericoloso, perché non riuscirà mai a portare queste cose dentro nel mondo degli adulti, perché questo come mondo distante e parallelo a sua volta si difenderà e difenderà? Difenderà quello che è stato, difenderà quello che è sempre stato, non accetterà il rinnovamento della storia, al massimo cercherà di scimmiotare i ragazzi, voi capite che non si va da nessuna parte, ecco perché questa ricomposizione secondo me potrebbe entusiasmare anche i giovani, perché questa ricomposizione è una partita nella quale certamente tocca agli adulti, sino dei vescovi è questo, tocca agli adulti fare la prima mossa, loro devono essere convinti a offrire questa possibilità, questo è il mondo che voi siete destinati ad abitare, quindi vediamo che cosa si può fare per farvelo abitare in maniera tale che portiate il nuovo che ogni generazione deve portare, in che modo possiamo sostenere il cammino che ci arriva attraverso le sue difficoltà, le sue ferite, le sue frustrazioni, perché l'età giovanile ha diritto di essere anche un po' sognatrice nello stesso tempo anche di fare le sue esperienze dolorose, i suoi passaggi dolorosi. Ecco, il secondo spunto per entrare in questa dimensione secondo me è questa idea, cioè capire che in questo momento il tema che il sinodo chiama quello della vocazione e che io potrei tradurre, ecco perché vocazione naturalmente poi bisogna spiegare, non è solo quella del prete, della suora, eccetera, vocazione è l'apertura alla vita e la personalizzazione, si chiama vocazione per questo, perché l'apertura alla vita di ciascuno va personalizzata, non può essere un'apertura generica dell'essere umano in generale, va personalizzata, va presa su misura di un nome e di un cognome, in modo che sia umana, certo, come quella di tutti, degna dell'uomo, certo, ma con un nome e con un cognome. Quindi non è semplicemente scegliere una professione, scegliere di fare questo o quell'altro, scegliere una condizione di vita, è proprio scegliere un'intonazione personale della propria esistenza. Io traduco con il concetto di destinazione, che mi pare deve essere sottratto all'idea del fatalismo, una volta era il fatalismo religioso, adesso è il fatalismo dell'evoluzione, ci dicono che siamo come insetti ingegnosi, una specie molto ingegnosa, fatta di organismi, di materia, colvere di stelle, piuttosto abile come predatrice e consumatrice, e che abbiamo l'obiettivo di goderci il mondo e di sopravvivere anche a spese degli altri, questa rappresentazione dell'umano che filtra dalle ideologie che si appoggiano alla scienza ma non avrebbero diritto di farlo, è molto mortificante. Questo bisogna che i ragazzi per prima ragiscono. Quale grumo di cellule? Noi non siamo un grumo di cellule, siamo umani, altro che. E questa condizione umana significa che noi siamo in grado di indagare sulla nostra destinazione, sul perché e sul perché, su quello verso cui siamo attratti e destinati e verso cui si indirizzeranno le nostre risorse migliori. Dalla nostra destinazione, che deve essere appunto scelta in tutta libertà, naturalmente deve essere la nostra, quindi deve essere voluta da noi, dalla nostra destinazione, capiremo anche il meglio delle nostre risorse. Per che cose siamo destinati? Chi abbiamo ricevuto il compito molto misterioso, chi abbiamo ricevuto il compito di rendere felice? Se scopriamo questo saremmo felici anche noi. È un grande segreto della vita di cui il Vangelo porta la chiave. Se invece cercheremo prima di tutto come posso essere felice e poi vediamo cosa fare con gli altri, credo che non otterremo nessuno dei due obiettivi. Resteremo senza destinazione nella vita e felici non lo saremo mai perché chi può dire di sé e guardando a sé? Ecco, sono felice. Che cosa serve per essere felice? Nessuno di noi può dirlo. Non è una domanda che può venire soltanto dal nostro interno. Quindi, quando si parla di cercare dentro di se stessi chi siamo, va bene, si dice una cosa buona, deve essere un fatto della libertà e quindi come fatto della libertà chiede la padronanza di quello che io sono. D'accordo? Ma attenti che questa cultura dell'individualismo che è arrivata, del godimento a tutti i costi che è arrivata, ha inquinato questa ricerca e l'ha fatta diventare qual è il modo migliore per godermi la vita? Guarda, è il peggiore questo. Cercare di rispendere a questa domanda, rispondere a questa domanda, e molti ragazzi ci cascano, è una trappola. Pensare ad accumulare le risorse che mi rendono felici, aumenta la frustrazione. E di fatti, nelle nostre latitudini, dove si dice ormai i ragazzi hanno tutto, hanno delle possibilità, etc., pensate a quanti posti non hanno niente, la maggior parte dei ragazzi non hanno niente, noi effettivamente, virtualmente abbiamo un sacco di cose, stiamo diventando infelici. L'Europa è un'incubatrice di generazioni infelici, non infelici platealmente, ma malinconiche, alle quali non basta niente, che si domandano il giorno come vincere la noia. Qualcuno va fuori di testa per vincere la noia, magari se la prende con qualcuno, aggradisce qualcuno. Così, perché dovevamo vincere la noia, il male di vivere, il male di vivere che viene dall'idea cosa posso trovare dentro di me da nutrire, di godimento in maniera di poter essere felice. Questa qui è una trappola. Se i ragazzi possono loro stessi insegnarci questo, insegnarci a disinnescare questa trappola, se si lasciano afferrare da questa idea, no, c'è un segreto del proprio compimento, della propria pienezza ed è questo, interrogarsi astutamente, creativamente su chi sono destinato a rendere felice e che cosa posso inventarmi per abbellire il mondo, allora scoprirai molte cose di te stesso che altrimenti non saprai mai e capirai la verità della parola evangelica che dice se veramente si dona la vita, la si guadagna 100 volte, ti rende 100 volte questa cosa. A prima vista in un mondo come il nostro sembra una sfida quasi impossibile, ma noi siamo convinti, la Chiesa è convinta che questa sfida i ragazzi la possono riprendere in mano se sono incoraggiati a farla e ne trarranno vantaggio anche gli adulti e smetteranno di essere così patetici da voler imitare gli adolescenti e faranno sponda a questa ricerca e diranno ragazzo dimmi cosa ti serve per cercare la tua destinazione e noi la sosteremo in tutti i modi, però dopo la destinazione sarà tua, perché è questo il modo con il quale si abita la terra, scegliendo consapevolmente come abbellire la casa comune e per chi sono destinato, per quale felicità sono destinato, in quel momento noi stessi scopriremo delle risorse, scopriamo delle risorse che poi naturalmente ci deve essere consentito di mettere a frutto. Allora quando la Chiesa parla di vocazione in questo momento nel sinodo parla di questo, ma per evitare di rimanere imprigionata anche lei in una tradizione troppo limitata di questo termine, vedete, si rivolge al mondo dei giovani e dice, diteci anche voi, che cosa vi serve, che cosa pensate, quali sono le difficoltà che provate nel momento in cui cercate di porvi questa vera domanda, come posso arrivare alla condizione adulta con la soddisfazione di avere trovato la destinazione delle mie risorse, delle mie capacità migliori, della mia personalità, delle cose che so fare e delle cose a cui sono affezionato. Questa è la domanda che dobbiamo farci insieme, sono sicuro che la Chiesa ci guadagnerà se riusciremo a stringere questa alleanza. Grazie a tutti!